ciao a tutti oggi prepareremo il gelo di mandarini il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di riposo in frigo gli ingredienti sono succo di mandarini zucchero e amido di mais e mel via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero il succo di mandarini e l'amido di mais ed azionare il bimbi per 15 minuti 100 gradi velocità 4 trasferire il composto in stampini monoporzione o coppette riporre in frigo per almeno otto ore prima di servire trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelo dal frigo adesso lo toglieremo dagli stampini e lo serviremo gelo di mandarini grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti